salve a tutti i ragazzi sono master wallace carico 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 medaglia degli eroi che qui e maglietta italian body il nostro store abbigliamenti italian body ok allora ragazzi vi invito a scrivervi al canale per essere sempre sempre aggiornati dunque l'argomento di oggi è molto interessante ne sono sicuro e accattivante la domanda è gli integratori possono simulare gli effetti degli steroidi poi boh so già che qualcuno dirà si buonanotte è arrivato master wallace integratori steroidi si metterebbero a ridere molte addirittura molto addirittura dicono che gli integratori non servono a niente che sono soltanto buttati via che serve solo mangiare e allenarsi bene voi pensate che davvero integratori non servono a niente allora io ragazzi vi dico una cosa tenete bene a mente le parole che ho detto ho detto simulare non eguagliare già questi due concetti sono diversi la simulazione è un qualcosa che non è una cosa reale qualcosa che cerca di imitare la realtà ma non è la realtà certo quando ci sarà la grande simulazione universale fatta dal computer onnipotente la simulazione sarà come vera nel senso che non torneremo come siamo ora proprio reali forse già adesso una simulazione ma non andiamo in altri in altri concetti io ho detto simulare e ragazzi io vi dico che questa cosa non solo è davvero possibile ma che io l'ho già sperimentata molti anni fa quando cominciai proprio i miei primi passi nel culturismo dopo aver sviluppato le mie teorie diciamo di allenamento le mie concezioni che poi sono sforzate nel mws dei conti banche libri manuali però integratori hanno sempre avuto un ruolo importantissimo perché davvero ho capito che potevano in qualche modo simulare l'effetto degli steroidi e io l'esperienza che io con integratori ragazzi io c'è l'uso da 40 anni io ho provati veramente tutti e sono giunto a delle conclusioni vedete l'effetto degli steroidi ragioniamoci un attimo sopra cos'è che fanno poi di molto speciale gli steroidi rispetto ai ai natura no allora un po tutto con gli steroidi viene amplificato tutto sono amplificazioni in reali false nel senso che sono connesse all'assunzione sparite quelle non c'è più niente anche il fisico sparisce a tal proposito voglio dirvi che ho visto oggi ma in giro si vedono tante cose degli ex campioni che statunitensi poi altri di altre nazionalità parlando della loro carriera mettevano vedevano le loro foto quando erano impressionanti in gara no tipo 120 kg tutti striati definiti vascularizzati poi dicevano c'è una profa non pensate che questo sia sia solo effetto del doppio qui c'è dietro tanta volontà tanta dedizione qui bisogna bisogna veramente far mettersi sotto non tutti possono farlo no questi discorsi triti ritriti che voglio far capire che loro sono bravi voi siete e voi siete dei poveri cretini se avete capito niente del culturismo oppure non ci avete voglia di allenare fortunatamente qualcuno sotto in un attimo in un ballume di lucidità anche scritto ma smette di risciocchezze che senza roba tu non saresti nemmeno venti qui 15 per cento di quello che in quella foto chiudo allora con questo di cosa danno quando uno li assume beh semplice intatto vi danno immediata forza in più vi danno un pompaggio eccezionale vi danno una vascolarità anche questa molto accentuata vi danno più carica mentale vi danno più recupero più sviluppo muscolare perché la sintesi proteica è forzata a lavorare molto di più quindi più sviluppo muscolare quindi più tutto allora uno potrebbe chiedersi come è possibile che gli integratori possono fare tutto questo ragazzi integratori possono fare tutto questo sebbene a a un livello diciamo non come quello inferiore ma possono integratori possono davvero amplificare tutte queste cose che vi ho detto allora io non sarei quello che sono adesso con più 20 hp e sto cercando di fare la massima definizione possibile mai vista prima su un più 20 hp natural cominciate a riflettere su questa cosa ma non sarei così se non avessi usato anche integratori per cui non sto sminuendo l'efficacia di un allenamento corretto che ovviamente è la base e una nutrizione corretta che ovviamente è la base non ho mai detto ho sempre detto che sono i due pilastri ma poi gli integratori sono quelli che davvero fanno la marcia in più il turbo quello che vi fanno alzare di livello ok se voi con solo con la con l'allenamento e la nutrizione giusta arrivate a un certo livello con integratori andate su un livello superiore è tutto qui è tutto qui ragazzi allora ovviamente bisogna sapere usare ma di questo ne parlerò dopo io quindi sono così anche grazie integratori ragazzi io tutti i giorni tutti i giorni metto foto in giro nei miei profili facebook instagram e si vedono queste masse magre super pompate sul fatto del super delle super pompate anche quello che ho messo ieri ha fatto impressione guardate che cioè io mangio poco non non mangio tanto l'ho detto tante volte ci può sembrare strano ma non mangio tanto e però con l'integrazione speciali ragazzi mi faccio dei pre workout di viveroni incredibili poi ho affinato ho affinato alcune cose che sto provando adesso e sono impressionanti e tutto quel pompaggio lì che arriva extra e merito degli integratori perché di carburati in corpo le ho pochi quindi non potrei fare quei pompaggi esagerati invece li faccio perché ci sono ci sono queste cose qua quindi l'integratori posso sicuramente aumentare il pompaggio al massimo veramente una cosa incredibile la concentrazione mentale anche e il recupero muscolare certamente anche quello sintesi proteica e anche la forza perché per esempio sulla forza bene cito uno di integratori è creatina monidrato e cito una qui ci serve molto da dire la cristiana monidrato che era più la prima diciamo che è stata usata quella che è più usata poi ci sono tanti tipi di creatine tutti speciali particolari super costruzione ma la creatina monidrato è quella che c'ha dietro di sé la maggior parte degli studi veri c'è sono una centinaia che funziona ed è la più usata anche fra i culturisti da sempre funziona perché perché vi aumenta la forza non solo la resistenza e anche il pompaggio in parte ma proprio per il pompaggio non è la cosa eccezionale aiuta ma non in maniera eccezionale ce ne sono altre ma la creatina soprattutto vi aiuta la forza perché può davvero migliorare la forza su massimale massimale solo col fatto che la state assumendo e avete muscoli carichi di creatina cosa che non potreste fare a meno di non mangiare chili di carne al giorno che è impossibile capite ora io ho raccontato tempo fa che c'è anche un video un episodio famoso dove per questioni diciamo pratiche non avevo cambiato creatina no e vedevo che pur mattina mantenendo ovviamente i livelli di forza elevati però vedevo che mi mancava un qualcosa sentivo che era un po sceso di livello un po non me la spiegava sta cosa pensavo che lo sovrallenato mangiavo poco c'era qualcosa che non andava e ho detto ma qua non è che sta creatina che sto usando perché non era la creatina monidrato è quella proprio granulosa quella tipica erano quelle creatine morbidi come borotalco no quelle creatine ragazzi io dico una cosa quella creatina lì su di me non aveva il minimo effetto cioè semplicemente non funzionava e vedevo la differenza e vedevo la differenza sentivo che mancava quel quid quello qualcosa in più di di over boost nella forza che non c'era e quando sono tornato dopo ovviamente per vari motivi sono tornato la creatina quella che ho sempre usato quella sensazione è tornata e anche i livelli di forza sono tornati da l'altro poi in quel periodo fatto anche il record 165 di panca ma quello lasciamo stare e quindi è un esempio per dirvi no comunque vedete per esempio per ottenere pompaggi esagerati ci sono vari integratori ok ma vedete quello che conta davvero è la sinergia degli integratori cioè se è un integratore vi da due e voi usate quelli quelli giusti ne usate 10 potrebbe darvi 20 capite il concetto quindi deve essere veramente un insieme di sostanze che aumentano al massimo il pompaggio muscolare l'acqua nel muscolo la vascolarità anche la vascolarità cioè se più pompate e più dei beni sono anche evidenti attenzione perché poi qui ripeto io ho studiato alcune strategie ho provato e oltre diciamo gli integratori quelli potenti e sinergici per fare il super compaggio ho visto che ci sono altri fattori da considerare che possono alzare ancora di più il livello ma sono sperimentazione magari le parlerò ovviamente chi è seguito da master gli abbonati eccetera eccetera queste cose in parte già le sanno e le sapranno perché ovviamente sono cose che io provo e poi ovviamente li dico chi segue a chi mi seguono a dire a destra ma anche così per cui comunque per esempio nelle schede mws tanto per dire l'integrazione prevista è molto ottimale anche per i pompaggi per la forza per il recupero cioè sono strutturate proprio in questo senso e e quindi quello che dovete capire è che intanto master c'è un'esperienza di integrazione veramente eccezionale integrazione poi va non è che allora a casa non è che uno vale a casaccio comincia a buttare giù questo questo quello non funziona anche perché poi certe sostanze se non usate le tempistiche giuste o lontano dal pasto si annullano ci sono alcune sostanze quindi anche meno acidi se vogliamo che se pesi insieme si vanificano quindi un po come il caffè con latte no sembra che gli antiossidati del caffè con le portine del latte vengono totalmente annullati parte che la questione un po controverso ma ad esempio allora bisogna usare intanto un'integrazione adatta al vostro livello non è che un neofita può ingurgitare tonnellate integratori non servirebbe così come un medio rispetto a un veterano anche lì c'è differenza poi c'è il discorso della massa muscolare cioè se uno c'è un palloncino potete anche gonfiarlo ma più di tanto non va se voi avete più massa muscolare più misure il palloncino è come se fosse più grande e si confia di più ad esempio il palloncino la mongolfiera per cui l'integrazione deve essere adattata al vostro livello adattata alla stagione anche a quello che mangiate perché per esempio se mangiate molti carboidrati in fase di massa tanti integrazione pompante servirà comunque ma meno rispetto a quando mangiate poco perché quando mangiate poco il natural che si allena pochi carboidrati poco pompaggio ti vedi piatto i muscoli piatti no è lì che l'integrazione supercompatta è il massimo effetto e poi avrà anche l'effetto sul recupero sulla sintesi proteica sulla salute su tutto sul mantenimento della massa magra quando magari calate di peso quindi io per quello che posso dirvi sulla mia esperienza va bene ma anche poi su quella che ho visto su tanti altri in questi anni integratori se ben usati con una certa logica di esperienza a mio avviso possono simulare l'effetto degli steroidi anabolizzati faccio una precisazione simulano l'effetto di leggere dosi di steroidi orali non posso simulare l'effetto di massicce dosi di centinaia di milligrammi di testosterone di gano trembolone quello no perché diventano mostri però magari sapete quella gente che prende qualcosina di orale giusto per stare un po' più un po' più pompati più più incisivi quel più ecco fino a lì integratori ci arrivano guardate che non è poco se pensate che è poco non è poco è tanto anche perché questa cosa voi potete farla dritto per tutta la vita non solo perché è legale ma perché vi fa bene la salute non c'è motivo di staccare o mettere gli steroidi prima o poi per qualche motivo state tranquilli che prima o poi smettono tutti o vuoi per la salute o vuoi per la questione legale o vuoi per i soldi o vuoi che ne so se poi si smette invece con integratori bisogna andare avanti a vita e allora che cosa aspettate a usarli al meglio e chi può insegnare a usarli al meglio se non in ups ultra dell'esperienza su integratori sul campo masterworld quindi vi aspettiamo ragazzi non mollate mai ok al top